Craigy Horsfield, Aida Roger, Carrère d'Aragot, Barcelona, fevrero 1996. Il fotografo inglese Craigy Horsfield è solito ritrarre luoghi e situazioni facilmente riconoscibili. Questa fotografia è ambientata a Barcellona, in Spagna. Persone comuni sono usate per creare simboli e icone espressive. Questa giovane dei nostri tempi, fotografata senza alcuna preparazione o elaborazione particolare, è ritratta con un'intensità tale da trasformarla nella protagonista di un dipinto del Seicento.